Noi abbiamo fatto questa assemblea, siamo in stato di agitazione, abbiamo indetto un momento di mobilitazione generale della forestazione calabrese perché siamo fortemente preoccupati per il futuro di questo comparto. E' da anni che il sindacato unitario dice, intanto partendo da una mancata applicazione del contratto regionale della forestazione che è stato approvato il 4 dicembre del 2019 e questa giunta non ha inteso recepirlo. Per cui gli operai forestali hanno una retribuzione che ferma addirittura al 2011, praticamente 12 anni senza nessun aumento retributivo per questi operai. E sappiamo che l'inflazione si sta mangiando tutto il potere d'acquisto dei loro salari. Siamo altresì fortemente preoccupati per il futuro della forestazione perché ormai sono ridotti a lumicino, il più giovane ha 62 anni e quanto prima la forestazione andrà in estinzione. Ci domandiamo come organizzazione sindacale chi curerà l'assetto idrogeologico di questa regione, che sappiamo che si frantuma a ogni piccola pioggia che c'è. E sappiamo pure che il lavoro degli operai forestali ha evitato tantissime, tantissime disgrazie. Siamo preoccupati altresì perché sentiamo da parte della giunta regionale e del suo precedente un eventuale cambiamento della natura giuridica di Calabria Verde. Trasformare questa ente da ente pubblico non economico a ente pubblico economico, il che significa che il futuro della forestazione è nella mani del diritto cosiddetto privatistico. C'è un ente che dovrà andare avanti con le sue risorse e per andare avanti con le sue risorse significa un bilancio a pareggio e quindi niente soldi e viene meno lo scopo sociale della forestazione. E noi sappiamo che la forestazione in Calabria, lo ribadisco, è essenziale, indispensabile per la tutela di questo territorio. Oltretutto con la forestazione in Calabria, lo ribadiamo, vivono decine e decine di persone, decine e decine di famiglie e vediamo che la scomparsa di questo comparto non solo verrà a meno il lavoro e la tutela del territorio, ma porterà ancora più miseria in un territorio già misero di per sé. La giornata che oggi ci vede qui riuniti unitariamente, Fly, Fly e Vila di categoria, è un momento importante perché è diventato critico il momento nel settore della forestazione. Critico perché per chiudere l'anno mancano 71 milioni di euro e che sicuramente non basteranno a coprire tutta la parte economica relativa ai salari e stipendi dei laboratori, ma la cosa più grave è la continua e totale disattenzione che c'è sul settore, perché se no non saremmo arrivati a questo punto. Un settore che è bloccato al suo interno per opera della legge 442 dell'84, che blocca ogni possibile ricambio generazionale all'interno della forestazione, è una legge ormai obsoleta perché la normativa europea per quanto riguarda la tutela dell'ambiente a cui ogni regione deve ottemperare è ovviamente libera. Quindi una legge che ormai è obsoleta, che va superata e che con forza dobbiamo richiederlo, perché il nostro territorio, i nostri 96 comuni, per la maggior parte dislocati all'interno dell'entroterra, vivono di forestazione e soprattutto il lavoro dei forestali è un lavoro che va sul bilancio sociale. Quante vite si salvano ogni anno grazie all'intervento dell'antincendio boschivo? Quante vite si salvano perché non ci sono slavine o frane? Perché questi lavoratori vanno giornalmente a fare manutenzione sulle opere di ingegneria naturalistica, quali muri a secco o il mantenimento delle state montane. Questa è la vera risorsa della forestazione, è un bilancio sociale positivo perché tante persone hanno potuto vivere e tante vite si sono salvate. Noi riteniamo che la Regione può e deve fare di più e non solo, anche il Governo nazionale che dal 2017 sta continuamente tagliando i fondi per il settore della forestazione. Serve un rilancio del settore che parta da una progettazione seria, sostenibile, green, in linea con la normativa europea e che soprattutto abbia dei fondi storicizzati. Fondi storicizzati che significa poter finalmente programmare per poter ottenere dei risultati. Più produttività e più protezione. Perché oggi stiamo scaltando i motori, nel senso che oggi sono partiti tre attivi in tutta la Regione, stamattina è stato fatto nella zona nord, zona centrale, oggi pomeriggio concludiamo con la zona sud perché vogliamo motivare i lavoratori alla mobilitazione che faremo per l'intero settore forestale di giorno 12, una mobilitazione che guarda al futuro della forestazione, alla tutela dell'ambiente calabria, di tutto il territorio calabrese, alla manutenzione rispetto al dissesto idrogeologico, rispetto ai cambiamenti climatici e perché no, a nuove opportunità di lavoro per i giovani calabresi.